Taglio del nastro per la terza edizione di Aria, la casa consapevole che è ritornata nella città della fortuna già nella giornata odierna fino al prossimo 9 settembre. L'evento dedicato all'abitazione, all'arredo, al recupero e all'architettura della casa, organizzato dai cofondatori del progetto Fattori e Signoretti, proporranno nelle tre giornate dedicate oltre 40, tra conferenze, corsi, workshop e a cura di università, enti, imprese e progettisti. Un momento anche di importante crescita culturale ed economica per le aziende del territorio presenti. Fulcro dell'evento è l'ampia area, luogo ideale per mostrare i prodotti più innovativi, descrivere i servizi offerti e far conoscere le migliori soluzioni a visitatori e professionisti. A completare tale offerta sono presenti spazi espositivi allestiti da imprese e artigiani nel quale non mancheranno anche momenti di intrattenimento con concerti, letture e laboratori riservati ai più piccoli. Obiettivo di questo progetto è quello di informare consapevolmente una persona che possa scegliere al meglio una progettazione o una costruzione che affronti in modo virtuoso le sfide in tema di riuso e di ecosufficienza, risparmio energetico, benessere della persona e infine rispetto del territorio e dell'ecosistema. Molte le novità di questa edizione a partire dalla nuova location dell'evento in zona porto di Fano. Sì, sabato e domenica continueremo con la programmazione, ci saranno nel palco centrale le conferenze dalle ore 16. Partiremo con il comune di Fano che ci parlerà della riqualificazione della zona porto e concluderemo la serata con due concerti, uno nel palco Lido alle 21 e un altro sul palco centrale alle 22. Domenica invece ripartiamo alle ore 15 sul palco centrale sempre con gli interventi divulgativi aperti a tutti. Segnalo in particolar modo alle 17 parleremo di Smart House con il professor Mincolelli dell'Università di Ferrara e poi la sera ci saranno i concerti sempre sul palco Lido e sul palco centrale che si trova nella zona faro. Il programma è disponibile agli info point dell'evento qui ad Aria, zona faro e zona Lido e sul sito www.aria.casa.com Il programma Grazie.